Il dramma dei lavoratori ex ILVA in AS, tante promesse, tante dichiarazioni di impegni, ma purtroppo i mesi passano e le promesse vengono puntualmente disattesse e i lavoratori rivendicano uno stipendio, un salario, una indennità dignitosa, cosa che non accade. E sono con alcuni lavoratori ex ILVA in AS che liberamente esprimono il loro pensiero. Sebastiano Pulito. Buongiorno direttore, grazie per l'opportunità che ci dà stamattina rispetto a questa nostra manifestazione di dissenso verso alcune organizzazioni sindacali perché c'è in atto finalmente dopo tre anni e mezzo, perché ricordiamo noi siamo a casa da novembre del 2018, finalmente si sta realizzando, almeno nei tavoli, l'opportunità di poter avviare questi lavori di pubblica utilità per tutti i lavoratori in amministrazione straordinaria. In pratica sarebbero, costituiscono una integrazione salariale, non sostituiscono nulla ma integrano. Integrano una parte di stipendio, ricordiamolo, bassissimo di questi lavoratori, in campo di 700-800 euro al mese che avrebbero bisogno almeno di un 200 euro per integrare appunto. Per avere la possibilità di poter sostenere la propria famiglia, uno stipendio quasi dignitoso a fronte di quelli che percepiamo. Per arrivare a fine mese. Per poter arrivare dignitosamente a fine mese, in cambio ovviamente di lavori di pubblica utilità come dice il termine stesso. L'assessore Leo ha sposato questa richiesta, ricordiamolo, noi siamo un gruppo di lavoratori liberi, però diamo atto all'organizzazione sindacale USB, che sono stati gli unici promotori che da anni si stanno battendo nella persona di Michele Altamura, che si è spesa tantissimo per questa nostra vertenza, per queste nostre richieste. E finalmente l'assessore Leo dopo tre anni ha iniziato a convocare i primi tavoli affinché questa... Ricordo anche numerosi incontri che si sono tenuti a Bari. Dove lei ha partecipato anche intervistandoci, ci siamo andati parecchie volte a Bari. Sotto la presidenza della regione Puglia. Sotto la presidenza della regione Puglia. Quindi finalmente giungono le prime convocazioni. Ricordiamo, la prima convocazione, il primo tentativo a questo punto, devo dire, di convocazione è stata il 4 aprile. Però per un'organizzazione sindacale questo primo tavolo è saltato. Io ho la mail che lo testimone per evitare a scanso di equivoci, questa è la mail di risposta arrivata appunto dall'assessore Leo alle organizzazioni sindacali. Si evince proprio nel secondo riquadro per richiesta sindacale e il tavolo è stato rinviato. Successivamente l'assessore Leo, armato di tanta pazienza, ha fatto una seconda convocazione il 6 aprile. Anche la seconda convocazione, come mi sono stampato la mail, sempre a scanso di equivoci, viene meno, salta anche questo secondo incontro. Sempre, come dice il secondo riquadro, per richiesta sindacale. La mia rabbia, in senso lato del termine, è che le organizzazioni sindacali, che non a caso abbiamo scelto Piazza Bettullo, dove risiedono due delle tre organizzazioni sindacali che puntualmente fanno saltare il tavolo, anziché rappresentarci, anziché difenderci, anziché loro tirare dalla giacchetta in senso metaforico del termine... Sembrerebbero contrari a questi lavori di pubblica, visto che, come dire, fanno sì che saltino i tavoli di continuo, ma penso che non è che potranno saltare all'infinito. Poi, se non si presentano, si dovrebbe procedere ugualmente, se no... Ma, a quanto pare, la loro presenza è determinante affinché si facciano o, viceversa, non vadano in porto. Allora, io la domanda che faccio agli iscritti di queste confederazioni. Iniziate, ragazzi, a informarvi su chi vi rappresenta, a chi pagate, tra virgolette, la quota sindacale. Perché queste persone, a questo punto, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, non rappresentano voi, ma rappresentano... Vanno contro l'overaio, questo è quello che fanno a Taranto e basta. Quindi non ci sentiamo rappresentati da queste persone, stanno temporeggiando. Il rischio è che l'assessore Leo, un domani, si possa rompere le scatole, possa iniziare a perdere la base. Vuol dire, se non lo vogliono loro, a questo punto, arrangiatevi. Eh sì, perché il messaggio preoccupante e pericolosissimo che si fa passare è che non c'è un interesse rispetto a questa situazione. Perché se nemmeno i sindacati si siedono al tavolo, poi non ci credo, siamo impegnati, che poi alla fine sono dei congressi che vanno a fare loro, dove si scambiano nomine tra di loro, quindi giochetti sindacali, giochetti sindacali, possibile che non avete... Non c'è un rappresentante che si possa sedere in una videocall e fare queste riunioni? È una cosa assurda. Tra l'altro, come diceva giustamente l'amico, il collega, non si tratta di andare a Bari, eppure per difendere i lavoratori dovresti andare anche in capo al mondo. Qui si tratta di fare una semplice videoconferenza, tranquillamente e comodamente da casa, e dire la propria opinione a fronte di queste richieste. Invece loro nemmeno questo fanno, e questa cosa è gravissima, è gravissima, che non riuscite a trovare, allora non prendiamoci in giro, la verità è un'altra, che non vogliono farlo. Allora lo dicessero apertamente, guardando negli occhi i lavoratori, che cosa ne pensano rispetto a questa situazione, perché poi a questo punto mi verrebbe da dire, a livello provocatorio, sostituiamo gli stipendi, provate voi che comunque la maggior parte di loro sono stati confermati con metal, chissà come mai, e noi siamo fuori, sostituiamoci un po' gli stipendi e vedete voi cosa significa poter sopravvivere con queste pache da fame.